In Regione Lazio abbiamo 6.000 detenuti per 5.000 posti detentivi, cioè 1.000 detenuti in più rispetto alla capienza effettiva. Ovviamente questo è un problema perché questo significa una difficoltà di vita da parte dei detenuti che sono spesso nelle stanze destinate all'ospitale di due persone, ce ne sono tre e così seguendo. È anche una difficoltà obiettiva per tutto il personale perché il personale che noi abbiamo negli istituti di pena, a prescindere dal fatto che sia peraltro anche carente nei numeri, è comunque un personale adattato su quella capienza di 50.000 detenuti, non sui 57.000 e questo ovviamente pesa nel lavoro quotidiano di chi appunto opera in carcere. Il tema appunto della carenza del personale ha una motivazione specifica? C'è un qualcosa che determina questa problematica? Intanto noi scontiamo decenni di limitazione nei concorsi pubblici, negli accessi alla pubblica amministrazione che si avvertono anche in questo settore nonostante il fatto che per esempio nel settore della polizia come nel settore degli altri forzi di polizia c'è sempre stata una deroga diciamo sia al blocco delle assunzioni a pubbliche amministrazioni ma una deroga che non ha mai coperto le effettive necessità. Molto tanto personale assunto negli anni 70-80 è andato in pensione in questi anni e non è stato sostituito da adeguati quantitativi di nuovo personale giovane sia nelle funzioni di sicurezza che spettano la polizia, sia nelle funzioni educative che spettano appunto i funzionali giudicoli pedagogici ma fin anche nelle funzioni amministrative e contabili. Abbiamo istituti che semplicemente non hanno il contabile che può effettivamente gestirne la vita quotidiana cioè i pagamenti e quant'altro attengono alla vita di tutti i giorni gli istituti penitenziari. Mi permetta una virgola dottore c'è forse anche un po' di, non dico di paura ma anche un po' di remora da parte di questo personale oppure no è una mia sensazione? Remora rispetto a lavorare. Esatto, esatto. Allora questo per esempio è un problema effettivo che stiamo riscontrando molto in modo particolare nel settore sanitario. L'assistenza sanitaria in carcere è prestata dalle ASL come per tutti quanti gli altri cittadini però appunto il personale sanitario soprattutto negli ultimi, l'ultimo anno, due anni da quando sono per via del covid riprese anche gli assunzioni in sanità, ovviamente se può scegliere sceglie il laboratorio territoriale, l'ambulatorio territoriale, l'ospedale pubblico piuttosto che prendere servizio in carcere. Abbiamo grandissimi problemi per cui non si trova personale che voglia scegliere e decidere di andare a lavorare in carcere. Dottore, allora io mi ricollego anche alla sua ultima riflessione dove ha tirato in ballo il covid-19 e quindi volevo chiederle un po' se nei numeri il covid ha avuto un'incidenza o è anche cambiato il modo di gestione, se ci sono stati dei pro e dei contro da parte della pandemia. Allora ovviamente la pandemia ha avuto un impatto molto forte sui istituti penitenziari, non soltanto per quelle proteste con cui si è aperta la stagione della pandemia in carcere, voglio ricordare in 45 istituti penitenziari ci furono proteste di una certa gravità, ci furono addirittura 14 persone decedute in diversi istituti italiani, in modo particolare in regione Lazio ne morirono tre nel carcere di Rieti. Non ci fu solo questo che fu l'effetto di una ondata di panico da inizio di pandemia, chiusure, interruzioni dei colloqui con i propri familiari eccetera, ma poi la pandemia ha avuto effetti anche importanti perché appunto per esempio per ovviare a queste chiusure per la prima volta con la pandemia sono stati sperimentati all'interno delle carceri i collegamenti digitali, è stata sperimentata la possibilità di fare videocolloqui all'interno degli istituti penitenziari e in molti istituti questa esperienza continua, continua ancora attivamente, consente a molti detenuti di fare colloqui con familiari lontani o lontanissimi che non avrebbero i mezzi e le risorse per andare a fare il colloquio in presenza. Quindi c'è stato questo e c'è stata una riduzione delle presenze in carcere perché ovviamente c'è stata una maggiore attenzione ad evitare le condizioni di affollamento all'interno degli istituti penitenziari, c'è stata soprattutto l'evidenza e di questo bisognerebbe ragionare per il futuro della necessità di strutture e soluzioni abitative esterne per facilitare il reinserimento sociale di persone che sono in carcere e che magari non hanno un domicilio o una famiglia che li possa accogliere, una possibilità di vivere autonomamente fuori. Questo è uno degli insegnamenti che ci sono venuti dal Covid e che dovrebbero essere capaci di conservare e su cui bisognerebbe lavorare ora che il Covid è passato. Come funzionerebbe, dottore, quindi questo reinserimento in strutture esterne? Ma allora già appunto nella normativa anti-Covid, ma questo è previsto diciamo dall'ordinamento penitenziario in generale, sono previste una serie di misure alternative come l'affidamento in prova al servizio sociale, come la stessa detenzione domiciliare, ma ora con la legge Cartabia sono previste possibili applicare la detenzione domiciliare o la semidivertà anche direttamente in giudizio, quindi senza che la persona passi per il carcere. Tutte queste cose necessitano il fatto che la persona abbia effettivamente un domicilio, un domicilio idoneo allo svolgimento di attività che venga portato a fare fuori dall'istituto penitenziario. E quindi per questo è necessario una programmazione, in modo particolare una responsabilità da parte degli enti territoriali, penso ovviamente alle regioni per le funzioni di programmazione, ma poi anche ai comuni che effettivamente possono allestire soluzioni abitative per persone che hanno una minima pericolosità sociale, spesso hanno problemi di difficoltà di inserimento o qualche volta anche di salute e che necessitano di andare fuori dall'istituto penitenziario. Tutto qui è un'esperienza che si può portare avanti e che dovrebbe essere adeguatamente finanziario. Giustamente, giustamente. Dottore, invece volevo farle anche quest'altra domanda in merito poi alla situazione di giustizia minorile. A livello di giustizia minorile la situazione cambia? È diversa? Allora, intanto nella giustizia minorile noi dobbiamo dire che abbiamo, diciamo così, un ottimo risultato di un ordinamento che privilegia l'esecuzione penale esterna. La gran parte dei minori che sono coinvolti o giudicati responsabili di fatti di reato non vanno nel carcere minorile. Seguono percorsi educativi all'interno di comunità che sono sul territorio, che sono seguite, vigilate dal centro della giustizia minorile territoriale, ma quindi seguono un percorso alternativo. Poi c'è sempre, diciamo così, un piccolo gruppo. In Italia sono circa, in questo momento in tutto il paese, circa 300 i minori o i giovani adulti fino ai 25 anni di età che abbiano commesso però il reato quando erano minorenni, che sono negli istituti penali per minori e quindi anche, per esempio, a Roma nell'istituto penale di Casal del Marmo. In questi istituti, in questi anni, abbiamo registrato qualche difficoltà di una, come dire, di una faticenza delle strutture, della mancanza di figure dirigenziali autonome destinate esattamente a questa funzione. spesso i direttori di questi istituti sono in via di definizione le assegnazioni di nuovi dirigenti assunti recentemente. Per il momento noi abbiamo, continuiamo ad avere, nella gran parte dei istituti penali per minori d'Italia, direttori che sono direttori di carceri per adulti, che continuano a fare direttori di carceri per adulti e che magari uno o due giorni alla settimana svolgono le funzioni anche di dirigenti dei carceri per minori. Invece il sistema minorie ha delle sue specificità che meritano di essere seguite da personale effettivamente dedicato. E appunto anche per quanto riguarda questa tematica ci si ricollega alla mancanza di personale, oltre alle strutture fatiscenti, giusto? Ahimè anche qui, anche qui si soffre della mancanza di personale. Però speriamo, siccome appunto sono stati fatti i concorsi per dirigenti di istituti penali per minori, speriamo che dall'autunno possano prendere servizio i nuovi dirigenti e in qualche modo si possa recuperare e stabilizzare questa situazione. Dottore, le volevo anche chiedere questa cosa in merito alla tematica che abbiamo scelto oggi. Il focus, e non per giocare con il nome del programma, era soprattutto sul modo in cui vengono trattate e assistite le persone che sono private da libertà personale. Cioè noi volevamo dare importanza anche a questo aspetto in questa nostra chiacchierata, giusto? Certo, certo. E questo è ovviamente l'aspetto essenziale, perché poi bisogna essere consapevoli del fatto che l'efficacia di una sanzione penale, anche di una sanzione penale detentiva, che voglio ricordarlo, è una sanzione particolarmente afflittiva, perché la privazione da libertà è una privazione importante. Tutti noi nel nostro piccolo l'abbiamo sperimentata all'epoca del lockdown, del covid, pur facendolo in casa nostra con i nostri parenti e le persone che più o meno ci siamo scelti. Invece in carcere, questo è molto più faticoso, l'efficacia di questa misura si vede nella capacità di reinserimento nella legalità delle persone detenute. Perché ci sia un reinserimento nella legalità delle persone detenute bisogna dargli fiducia e sostegno, offrirgli opportunità di formazione professionale, di conoscenza, di miglioramento di se stessi, perché questo produce effettivamente sicurezza, che significa sottrarre persone alle condizioni di vita illegali, sottrarre persone evidentemente alla necessità di guadagnarsi da vivere illegalmente. Questo dovrebbe essere l'interesse di tutti, non solo delle persone detenute o dei familiari delle persone detenute, ma evidentemente di tutta la collettività. Per questo ci impegna l'articolo 27 della Costituzione e questo è il lavoro che con grande fatica si cerca di fare l'interesse di tutti i penitenziari. Dottore, solamente una mia curiosità, abbiamo detto che c'è forse un po' di problema dal punto di vista, non so, finanziario, logistico, ma noi siamo pronti culturalmente a fare quello che dice lei, quindi a dare questa possibilità? Questa è la difficoltà, questa è la difficoltà più grossa, perché ovviamente il senso comune tende a immaginare il carcere con quel brutto modo di dire che si chiudono le persone e si butti via la chiave, questo è il senso comune, ahimè, diffuso, che pesa anche nella distribuzione delle risorse, pesa anche nella distribuzione delle risorse. Se il personale non c'è è perché ovviamente quando bisogna programmare l'investimento di personale nelle pubbliche amministrazioni, chi ha responsabilità di governo a qualsiasi livello sente la pressione dell'opinione pubblica che dice che ovviamente il personale va impiegato altrove, non va impiegato per le persone detenute. Quelli hanno fatto quello che devono fare e paghino la loro pena. Però appunto su questo viceversa, diciamo, una capacità di guardare le cose in prospettiva ci dice che invece lavorare bene dentro gli istituti peritenziari, offrire alternative alla mera custodia, significa produrre più sicurezza per tutti. Lo sforzo più difficile è esattamente questo, cambiare questo modo di pensare e questa cultura diffusa. Esatto, sicuramente potremmo sintetizzare, la virtù sta nel mezzo, bisognerebbe essere un po' più elastici anche per cercare di dare questa possibilità. Dottore, poi le volevo anche chiedere, visto che è un argomento che non abbiamo toccato, ma se ne parlava anche nei giorni scorsi del CPR. Non so se lei ci può spiegare un po' che cos'è e perché secondo lei è importante. I garanti, e io stesso come garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, si occupano di istituti penitenziari, ma non solo, si occupano di tutte le condizioni di restrizione della libertà. Tra queste condizioni di restrizione della libertà c'è anche una restrizione della libertà per ragioni meramente amministrative, cioè per la illegalità, irregolarità del soggiorno nel nostro Paese e degli stranieri, che vengono, quando vengono fermati dalle forze di polizia, vengono portati nel centro di permanenza per il rimpatrio, questo significa CPR, a Roma ce n'è uno nella zona di Ponte Galeria, dove vengono trattenuti al massimo per alcuni mesi in attesa di identificazione ed eventualmente espulsione. Eventualmente espulsione se effettivamente le autorità del paese di cui si suppone la persona sia cittadino collaborano a questa possibilità di rimpatrio. Purtroppo la gran parte delle persone che vengono trattenute di CPR vengono trattenute di CPR senza esito di rimpatrio, quindi possiamo dire in qualche modo inutilmente e soprattutto bisogna dire questi CPR proprio per questo transito breve e tra virgolette senza prospettiva, diciamo sì, o di rimpatrio oppure chissà di ritorno sul territorio con un foglio di via, sono strutture particolarmente, come dire, malandate, diciamo sì, prive del del benché minimo di attività, sul supporto o quant'altro. Per farvi un esempio appunto nel CPR di Ponte Galeria ci sono un campo da calcetto e un campo da pallavolo che sono inutilizzati credo da quando io sono garante, quindi da circa sette anni e le persone che sono trattenute in quel luogo non fanno assolutamente nulla per tutto il giorno, dalla mattina alla sera finché vanno a dormire. Ora è chiaro che questa è una condizione totalmente inacettabile che provoca molto malcontento e che spesso provoca anche proteste, rivolte, tentativi di fuga, insomma tutto quello che ovviamente le persone cercano di fare per sfuggire una condizione di particolare sofferenza, quindi bisognerebbe radicalmente ripensare di questi luoghi, in questo modo sono in parte inutili e peraltro molto dolorosi. Va bene dottore, infatti su questo tema magari ci si potrà anche tornare in un secondo momento, magari lo approfondiremo insieme. L'ultima cosa che le volevo chiedere, perché poi leggendo il suo curriculum, mi sono un po' documentato, ho visto che non è solamente garante dei detenuti ma anche professore, quindi ha anche un'attività divulgativa importante, giusto? Fa un bel po' di cose. Beh sì, è il mio mestiere, diciamo così, il mio mestiere è quello di docente universitario e insieme con l'impegno civico che mi ha sempre fatto lavorare su queste cose. In fondo faccio il garante per questo, perché i garanti, essere garanti non è una professione, diciamo così, è un impegno istituzionale temporaneo che si presta per un certo periodo della propria vita, per me durerà fino al 2026, poi diciamo se altri faranno e spero che faranno meglio di me. L'importante è che i garanti siano persone competenti, che hanno esperienza, che conoscono questo mondo, questo credo che sia la necessità per tutti. Allora dottore, visto che abbiamo proprio gli ultimi minuti assieme, se vogliamo nuovamente ribadire il concetto, il succo della nostra chiacchierata. Noi siamo stati qui a parlare della tematica della carenza appunto del personale, nelle strutture dei carceri. Poi abbiamo cercato di raccontare come siano importanti comunque i diritti dei detenuti, giusto? Certo, sono le cose che stanno insieme per rendere un servizio di giustizia migliore, che deve essere un servizio di giustizia orientato ovviamente a, diciamo così, ristabilire i principi della ragione del torto nei fatti che succedono nella vita quotidiana, ma anche nelle possibilità di convivenza delle nostre comunità. Quindi a partire dal rispetto delle persone detenute per quelli che sono i loro diritti fondamentali e della prospettiva del loro reinserimento, che è ciò che ci dice la Costituzione quando dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo è l'impegno a cui siamo chiamati tutti quanti. E allora, l'impegno a cui siamo chiamati un po' tutti è, come dicevamo anche prima, anche questo cambio dal punto di vista culturale. Abbiamo cercato di invogliare anche le persone, capendo l'importanza anche del personale nelle strutture, non solamente quindi dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista delle carceri, cercando anche di stimolare un po' l'opinione pubblica anche sul fatto che le strutture siano fatiscenti, quindi anche un po' sulla logistica. Questo mi sembra sia importante sottolinearlo. Dottore, io la ringrazio perché è stata una piacevolissima chiacchierata volata veramente in un amen. Grazie intanto di aver accettato il nostro invito e la rinvederemo. Grazie a voi, quando volete. Grazie, grazie quindi al dottore, garante dei diritti dei detenuti Stefano Anastasia, appunto garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, con il quale abbiamo fatto un po' il punto della situazione nel nostro TG Focus. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi invito a restare ancora in compagnia della programmazione di Cusano News 7. Grazie a tutti.